Parliamo di fisici pluralisti, tre grandi filosofi, uno più grande filosofo dell'altro e viceversa. In effetti ciascuno di questi autori meriterebbe un video tutto per sé, perché a questo punto la loro filosofia è già abbastanza ricca, articolata, tocca temi differenti e anzi, che ne so, nel caso di Democrito faremo fatica a farlo stare un quarto d'ora di video. Tuttavia i loro agenti mi hanno pagato troppo poco e quindi tratterò le loro dottrine in parallelo. D'altro canto credo che anche loro un po' se lo aspettino, sono filosofi che tradizionalmente vengono sacrificati. Il professore arriva a questo punto dell'anno e è indietro col programma, si è sempre indietro col programma, e allora tra fare altri filosofi naturalisti che si occupano di fisici e basta che tutte cose superate da millenni, andiamo a parlare di cose serie, sofisti, Socrate, Platone, eccetera, e quindi vengono un po' trascurati. Quindi andiamo anche noi dritti al punto. Qual è il problema? Il problema è che questa indagine naturalistica, questo cercare di capire qual è l'archè, sembra che non stia portando da nessuna parte. Ammettiamolo. Abbiamo provato varie soluzioni e nessuna è stata propriamente convincente al cento per cento. Che la realtà sia fatta tutta di aria, variamente compressa, che la realtà sia tutto logos, ordine, armonia, rapporto numerico, mica tanto, o che la realtà sia immobile, mutabile, eterna nel suo essere, semplicemente essere. E poi, quando anche adottiamo una di queste posizioni, tutto muta, come dice Eraclito, o niente muta, come dice Parmenide? Mettiamoci d'accordo. Da Agrigento, ulteriore prova del fatto che, come dicevamo, la filosofia greca in realtà nasce in Italia, Empedocle salta su e dice, ma allora, se vogliamo sapere cos'è l'archè, in realtà abbiamo già degli indizi, ce l'han detto i poeti, è un luogo comune, lo sanno tutti, che la realtà è fatta di quattro elementi, terra, acqua, aria, fuoco. E quindi l'archè saranno questi quattro elementi, queste quattro, dice lui, radici. Queste quattro radici in se stesse sono immutabili, omogenee, sempre uguale a se stesse, eterne, cioè hanno le caratteristiche dell'essere parmenideo. Il fuoco resta sempre fuoco, l'acqua sempre acqua, non mutano le loro caratteristiche, la loro specificità. Dopodiché, aggregandosi e disgregandosi danno origine a tutto il mondo, che è un mondo che muta, cambia, diviene, sembra costantemente diverso, come sosteneva Eraclito. Insomma, Empedocle sembra essere riuscito a tenere insieme capre e cavoli, l'aspetto stabile, permanente, immobile della realtà, della realtà profonda, e l'aspetto diveniente, mutevole, sempre soggetto al cambiamento della realtà così come ci appare tutti i giorni. Se io prendo un gatto e lo butto in un tritacarne, ottengo trito di gatto, è cambiato. In realtà, gli elementi, le quattro radici che componevano il gatto prima, ci sono ancora tutte, non sono cambiate minimamente, è cambiata la loro organizzazione. Prima formavano un gatto, dopo formano trito di gatto. Bravo Empedocle, tutto molto bello, se non che da Clazomene, che sembra una parolaccia, ma è una città della Ionia, e questo dovrebbe dirci molto, arrivano a Sagora, che dice che le cose non possono stare così. Innanzitutto perché non sia mai che un filosofo è d'accordo con chi lo precede, ma poi in secondo luogo perché con quattro soli elementi, con le quattro radici elementari. Non fai tutta la complessità del mondo là fuori. Voglio dire, cos'è la zuppa? Acqua con un po' di terra in sospensione. È composto di acqua e terra in diverse percentuali. Bene, il barolo? Acqua e terra. E il cianuro? Acqua e terra. E il fango? Acqua e terra. Ok, cambia le percentuali, ma con due soli ingredienti. Non puoi fare l'infinita varietà di tutte le cose variamente umide. Per Anasagora ha molto più senso pensare che le particelle originarie non siano quattro, ma siano una moltitudine differenziata per qualità. Ecco, questi originari qualitativi, lui per farsi ridere dietro dagli studenti contemporanei che non colgono la complessità del termine greco, li chiama semi. Quindi, questo non è terra, carne, ossa, con dell'acqua, il sangue, con del fuoco perché è tiepidina. Questa qui è un aggregato di semi. Semi di pelle, semi di carne, semi di ossa, semi di tendini, semi di sangue e via discorrendo. Primo punto. bravo Anasagora. Se noi invece che i semi che fa ridere le chiamiamo molecole, improvvisamente sembra che Anasagora sia modernissimo. In realtà no, perché qui oltre tutto quello che ho detto ci sono anche semi di rosa, semi di tiepidino, semi di liscio. Perché per ogni qualità di un oggetto ci sono i semi corrispondenti che sono preponderanti, che emergono, che si notano, altrimenti non la vedrei di quel colore, con quelle qualità. Seconda questione. Perché questa roba qui è fatta di tutti i semi che abbiamo detto e non semplicemente di semi di mano? Anasagora, per dimostrare di essere davvero un campione nell'inventare nomi buffi, chiama i suoi semi omeomerie, cioè realtà formate da parti simili tra loro. Con un esempio diventa subito chiaro. Il mio gatto non è fatto di semi di gatto, perché se io prendo un coltello e lo taglio in due, non ottengo due gatti. Ottengo due metà, una con la coda, l'altra con la testa. E se continuo a tagliare i pezzi di gatto otterrò parti sempre diverse, progressivamente più piccole, code, zampe, teste, parti di coda, parti di zampe, finché non arriverò una particella minima, che ne so, un pezzettino di carne che se tagliato ulteriormente a metà non produrrà parti diverse, ma parti simili, sempre carne. Terza questione, come avvengono i cambiamenti radicali, i cambiamenti di sostanza? Secondo Anasagora sono dovuti al fatto che in ogni cosa sono presenti i semi di un po' tutte le cose. Quindi se io prendo il mio gatto e gli do fuoco, ottengo un cadavere carbonizzato. Perché? Perché i semi di colore, i semi di pelo che c'erano prima, se ne vanno col fumo, passano in secondo piano e vengono in primo piano, diventano evidenti i semi di carbone, di cenere, di nero, che erano già presenti nel gatto, ma che finché non ho buttato nel fuoco non sono emersi in maniera preponderante. Questo detto per inciso spiega la nutrizione. Tutti voi vi sarete sempre chiesti perché se io mangio delle patatine mi sfamo, se mangio della ghiaia no. Perché nelle patatine ci sono numerosi semi di sangue, carne, ossa, pelle, peli, tendini, che servono al sostentamento del mio corpo e altri semi che non servono. Il mio apparato digerente li distingue, prende i semi che mi servono e li usa e i semi che non mi servono li espelle. I sassi non mi sfamano perché in essi sono presenti in minima quantità semi utili all'uomo, ma in quantità così minima che di fatto non bastano al mio sostentamento. Bravo Nassagora, ma ecco che da Abdera, una città della traccia, fra un po' faranno i filosofi anche i barbari, dove andremo a finire signora mia, ecco da Abdera giunge Democrito e Democrito dice spiegami un po' bene questa storia secondo cui i semi sono divisibili all'infinito? Perché se i semi sono infinitamente divisibili, come dice Anassagora, essi diventano sempre più piccoli e tendono a zero. All'infinito saranno zero, svaniranno. Democrito dice è molto meglio pensare che le particelle originarie non siano qualitative e infinitamente divisibili, ma siano quantitative, siano dei mattoncini non ulteriormente divisibili, minimi, piccolissimi, che combinati tra loro formano tutta la materia, tutto il mondo, come un enorme lego fatto da mattoncini minuscoli. Ok, come lo chiamiamo questo originario quantitativo? non divisibile, atomos, atomo. Ebbene sì, quando in età contemporanea gli scienziati si sono inventati la teoria atomica, si sono rifatti direttamente a Democrito. E anzi, Democrito è stato più coerente con la sua teoria, perché l'atomo contemporaneo, l'atomo moderno, continua a rompersi. Ok, è indivisibile, mai fatto di neutroni, protoni, elettroni. Anzi no, c'è caduto un protone dentro un light origin collider e abbiamo scoperto che è fatto di muoni, bosoni, di Higgs, tacchioni, vattelapesconi e poi, chi lo sa, gravitoni, gluoni, ne inventano una ogni giorno. E invece per Democrito gli atomi sono indivisibili. Punto. Se io metto il mio gatto in un forno a microonde, lo schifo che ottengo dopo averlo acceso è lo stesso quantitativo di atomi dello stesso tipo combinati in forme molto più caotiche e molto diverse. Democrito resta fedele a questa sua teoria e ne accetta tutte le implicazioni. Così, ad esempio, nel momento in cui afferma che tutto è fatto di atomi e gli atomi sono materia, arriva ad ammettere che il suo è un materialismo. Al di là della materia non esiste nulla, perché un qualcosa di non materiale sarebbe fatto non da atomi e quindi non sarebbe. In maniera analoga è un naturalismo, perché gli atomi combinandosi danno luogo alla natura. E tutto o è naturale, cioè fatto di atomi, o non è. Quindi non esiste niente di sovrannaturale. Ancora. È un meccanicismo, perché qualsiasi fenomeno dovrà essere spiegato partendo dagli atomi, visto che ci sono solo quelli e non ci sono cause divine, magiche, chissà cosa. Ogni fenomeno si spiegherà sulla base di interazione meccanica tra atomi, meccanicismo. E infine il suo è anche un ateismo, ateos, dottrina secondo cui non esistono gli dèi, non ci sono dèi, perché gli dèi o sono fatti di atomi, ma allora sono corruttibili e allora non sono dèi, oppure se non sono fatti di atomi non esistono. E così Democrito va all'inferno molto peggio dei suoi colleghi pagani perché non ha neanche diritto al limbo. Bene, torniamo da un punto di vista più generale. Non so che impressione ne avete avuto voi, ma a me queste dottrine dei fisici pluralisti sembrano più solide, più complete, più interessanti. Si pone però un problema che fin qui non era stato necessario porsi. Com'è che questa moltitudine di particelle si va ad organizzare in un mondo così complesso e organico qual è quello che ci circonda. Empedocle è sempre il primo, poveretto, ci prova e allora dice accanto alle quattro radici elementali ci saranno due forze, una forza aggregativa che è l'amore e una forza disgregativa che è l'odio. E Anasagora dice vabbè ma questo amore e odio non possono agire a caso, non possono agire un po' come gli gira perché non si riuscirebbe a spiegare in questo modo la complessità del mondo e tanto più se noi non teorizziamo l'esistenza di quattro miseri elementi ma una miriade di semi. Consideriamo di nuovo la mia mano. I semi della mia mano devono essere disposti esattamente ciascuno al suo posto perché se i semi di un tendine non sono nel posto in cui devono essere collegati esattamente come devono essere collegati, io il dito non lo muovo. Se i semi di pelle non sono in superficie, non sono in quel punto lì e disposti in quella maniera, io ho una piaga anche molto dolorosa. Più in generale se io vedo un'automobile non dico wow che fantastico fenomeno naturale, qui il metallo fuso dal magma di un vulcano deve essere schizzato fuori a formare delle parti metalliche che combinate insieme ha formato un'automobile funzionante. Dico dove il meccanico, il progettista, l'officina che l'ha costruita. Allora se io vedo un mondo in cui ogni cosa è al suo posto e funziona mirabilmente in maniera organica devo supporre che esista un'intelligenza in greco nus che ha disposto ogni cosa così come deve essere e questo è espresso naturalmente anche dal proverbo piemontese pan en us mangia da spus. E qui arriva Democrito e dice di nuovo non avete capito come funziona l'infinito. Se io ho infiniti atomi che vanno a formare infiniti mondi basta un intervento casuale, basta che io lascia agire il caso e a furia di agire produce ogni possibile combinazione ogni possibile mondo e quindi anche quello in cui siamo inseriti noi. E' il solito esempio. Se io prendo una scimmietta e la metto a batter tasti su una macchina da scrivere otterrò sequenze casuali di caratteri che solo ogni tanto comporranno uno spezzone di parola. Ma se io la scimmietta la metto a batter tasti all'infinito otterrò infinite opere tra cui ogni possibile opere in qualsiasi lingua. Mi troverò davanti la divina commedia e non sarà scritta da Dante Alighieri, sarà scritta da una scimmietta che mentre batteva tasti all'infinito a un certo punto, un caso su un'infinità di altri casi, ha creato proprio la divina commedia. Quindi perché secondo Democrito c'è una mano con cinque dita e tutti i tessuti disposti in maniera tale che io la possa muovere in questo modo? In origine c'era un'infinità di atomi su cui agisce un movimento caotico, casuale, che per urti meccanici, meccanicismo, crea tutti i possibili mondi, tra cui anche quello in cui io ho una mano fatta proprio così. Ci saranno altri mondi in cui io ho solo quattro dita o un tentacolo o non esisto. Insomma, dipende tutto dal caso, sicuramente non da un intelletto che per esiste dovrebbe essere sovrannaturale, ma abbiamo visto che se è sovrannaturale non esiste. Bon, lascio a voi scegliere quale di queste spiegazioni vi convince di più. Io devo andare a recuperare il mio gatto che è salito su un albero, non vuol più scendere, non capisco perché.